Buongiorno, stiamo per firmare il protocollo di intesa tra l'Associazione Scientifica Biologi Senza Frontiere e l'Associazione Orizzontica Cosentini per il progetto Calabria-Avventura, che partirà il 31 maggio da Cosenza. Qui abbiamo il Presidente dell'Associazione, il Dottor Giovanni Insasi, che ci parlerà appunto della sua associazione. La associazione scientifica Biologi Senza Frontiere è una associazione a livello nazionale, è composta non soltanto da biologi ma da tante figure professionali. Noi operiamo sul territorio calabrese ma anche su cinque seri nazionali, che sono Brescia, Bologna, Roma e Caserta. Praticamente facciamo dei progetti verso i comuni, verso i clienti, per quanto riguarda la valorizzazione del territorio. Questo ci ha permesso di conoscere l'Associazione Orizzontica di Calabresi e Cosentini, che praticamente abbiamo sposato in pieno il suo progetto, che movendo al nostro colabrio abbondante i borghi del benessere, praticamente vogliamo valorizzare, finalmente diamo il nostro piccolo contributo, nella valorizzazione del nostro territorio calabresco. Qui invece abbiamo la Presidente e l'ottoressa Lomedana Saturno, dell'Associazione Orizzontica di Calabresi e Cosentini, che ci spiegherà anche lei della sua associazione. Grazie. L'Associazione Orizzontica di Calabresi e Cosentini è onorata oggi, come ti senti, sono onorata di essere in questa sede, e di firmare questo protocollo di testa con l'Associazione Biologi Senza Frontiere per il progetto Calabresi e Ventura, quindi che si colloca perfettamente e può unirsi in sinergia per valutare il territorio della nostra bellissima terra. Quindi Calabresi è un turist dopo un reality che andrà alla riscoverta di tutte le nostre bellezze, e sia quindi prima di farle conoscere noi calabresi che li apprezziamo poco, e poi portarle al dipone del territorio, quindi per farle conoscere anche al di là dei confini. e quindi oggi sono veramente onorata, è un piacere e sarà una collaborazione sicuramente molto bruttuosa. Bene. 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 Grazie.